Finalmente il vento si è calmato e non piove più qui in Friuli, quindi ne ho approfittato per fare una piccola uscita fuori porta a pochi chilometri da casa mia appunto e vi faccio vedere Valvasone. È uno dei borghi più belli d'Italia, appunto inserito in questa speciale lista ed è anche detto il borgo delle spose, quindi direi di smetterla di parlare e vi lascio alle immagini. Grazie per la visione! 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 Trovate i link a tutti i miei social in cui potete seguirmi anche al di fuori dei video settimanali. Noi ci vediamo al prossimo video! Have a nice life! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!